Nell'ultimo aggiornamento di Illustrator sono stati aggiunti quattro nuovi strumenti che possono tornarci particolarmente utili nel lavoro di tutti i giorni. Vediamo quali sono e come utilizzarli in questo nuovo video. Ciao ragazzi, io sono sempre Marco Agustoni, oggi torniamo all'interno di Illustrator perché ci sono nella versione 2024 alcune novità che riguardano dei nuovi strumenti di misurazione molto utili, specialmente a chi si occupa di packaging design, branding, logo design e in generale di stampa. Dopo anni infatti Adobe ha finalmente deciso di implementare una serie di strumenti di misurazione che ci permettono di aggiungere dimensioni o quote attorno agli elementi vettoriali, il tutto in modo assolutamente automatico. Lo strumento in questione si chiama dimensione, attualmente è ancora in versione beta, di conseguenza considerate che potrebbe presentare qualche piccolo problema di funzionamento, ancora non è preciso al 100%. Lo andiamo subito ad attivare e vediamo che si apre un piccolo widget orizzontale qui a sinistra che contiene quattro icone, quattro strumenti di fatto. I primi tre sono strumenti di misurazione che adesso vedremo, mentre la quarta icona permette di accedere alle opzioni con le quali potremo poi, come vedremo, andare a personalizzare lo stile delle nostre misure. Vi faccio vedere innanzitutto come aggiungere le quote attorno ad una forma e poi vedremo come modificarle e personalizzarle in base alle nostre necessità. Partiamo da una forma molto semplice come un quadrato o un rettangolo e vediamo come sfruttare il primo strumento che si chiama dimensione lineare. Con questo tool andiamo di fatto a misurare e aggiungere le quote di larghezza, altezza e distanza dei nostri elementi vettoriali. Come vedi basta posizionare il cursore sul segmento da misurare, supponiamo di voler misurare questo, facciamo un click e trasciniamo il mouse verso l'alto per andare a posizionare automaticamente una freccia orizzontale, come vedete, accompagnata da due linee di estensione dei lati e da un elemento di testo al centro che va a riportare in questo caso la larghezza del segmento espressa in millimetri. Vedete che è andato a misurare in automatico la lunghezza di questo segmento. Come vedremo più avanti gli elementi che abbiamo appena aggiunto, questi qui sopra, sono completamente editabili, però prima di farvi vedere questo ho intenzione di misurare anche l'altezza di questa forma, per cui mi sposto qui a sinistra e come ho fatto poco fa clicco e poi trascino per aggiungere le misure anche nella parte sinistra della forma. Come vedete queste misure sono di fatto degli elementi vettoriali che vengono inseriti in un livello chiamato dimensions e sono completamente modificabili. Vedremo poi che esistono una serie di opzioni anche nel pannello proprietà che ci permettono di personalizzare velocemente l'aspetto di queste misure senza intervenire manualmente sui singoli elementi da cui sono composte. Ma adesso vado a disegnare una stella perché voglio mostrarvi anche gli altri due strumenti di misurazione. Come vedete abbiamo anche a disposizione questo secondo strumento che si chiama dimensione angolare con il quale possiamo aggiungere le quote relative agli angoli delle nostre forme. Prendendo come riferimento questa stella vi faccio vedere che possiamo innanzitutto misurare con lo strumento che vi ho fatto appena vedere questo lato qui con un click e un drag come abbiamo visto. Possiamo anche fare click su questo punto e spostarci su un altro per misurare la distanza che intercorre fra i due. Ovviamente questa operazione la possiamo fare in qualsiasi punto della nostra forma anche ad esempio qui potrei tracciare la mia freccia e andare a misurare la distanza fra questo punto specifico e quest'altro. Oppure cosa ancora più interessante possiamo misurare come dicevo gli angoli con questo secondo strumento che si chiama appunto dimensione angolare. Per farlo è sufficiente posizionarsi su un punto d'angolo tipo questo qui cliccare trascinare. Vedete che viene aggiunto un semicerchio con il valore del raggio dell'angolo in questione e possiamo aggiungere la quota all'interno della forma oppure all'esterno e possiamo misurare qualsiasi punto ad angolo che vogliamo misurare. Vedete è tutto molto semplice possiamo aggiungere o all'esterno la misura oppure trascinando verso l'interno all'interno appunto della forma. Prima di proseguire volevo condividere con voi una cosa interessante. Guardando le statistiche del mio canale youtube ho notato che quasi il 90% di voi guarda i miei video senza purtroppo essere iscritto al canale. Essere iscritti non solo vi permette di ricevere i nuovi contenuti direttamente nel vostro feed ma anche di non perdere nemmeno uno quindi se guardate i miei video se vi piacciono vi invito per favore a fare clic sul pulsante iscriviti che trovate qui sotto. Per me è davvero importante perché mi permette di crescere e di portarvi sempre contenuti aggiornati. Ora torniamo ad illustrator perché vediamo che in realtà si può fare anche altro con questi strumenti di misurazione. Andiamo a disegnare per esempio un cerchio e voglio farvi vedere anche il terzo strumento che si chiama dimensione radiale. Uno strumento con il quale possiamo misurare raggio e diametro di un cerchio. Per tracciare il raggio possiamo posizionare il cursore sulla circonferenza, cliccare e trascinare verso l'esterno della forma al di fuori. Al contrario se vogliamo misurare il diametro dobbiamo cliccare e trascinare verso l'interno della forma. Tutto veramente molto semplice e intuitivo. Vedete che viene aggiunta una freccia all'interno mentre il valore in questo caso viene messo all'esterno. Ovviamente come ribadisco questi elementi risultano completamente personalizzabili quindi se non vi dovesse piacere lo stile sappiate che a breve vi farò vedere anche come cambiare il loro aspetto. Per quanto riguarda questa forma possiamo ovviamente aggiungere le quote usando lo strumento dimensione lineare che è quello che io sinceramente preferisco e che sto usando maggiormente quindi volendo oltre a misurare il diametro nel modo in cui vi ho fatto vedere possiamo misurarlo anche in questo in questo modo posizionando le quote o le frecce all'esterno della forma. Vi suggerisco anche un piccolo trick che ho scoperto per velocizzare le operazioni di misurazione. Se tenete premuti i tasti alt o option potete aggiungere automaticamente le quote di larghezza e altezza con un solo clic come sto facendo in questo momento. È un rapido trucchetto che ho scoperto e che magari vi può tornare utile. E questo ovviamente lo possiamo fare su qualsiasi forma. Nel caso di forme raggruppate considerate che verrà preso come riferimento l'ingombro dell'intero gruppo anziché del singolo elemento per cui ricordatevi di aggruppare o separare gli elementi in base a ciò che volete misurare. Fra l'altro se abbiamo più forme nel nostro documento possiamo anche misurare la loro distanza, la distanza che intercore fra un elemento e l'altro e quindi aggiungere le quote utilizzando sempre lo strumento dimensione lineare. Basta posizionare il cursore nello spazio che vogliamo misurare, lo spazio tra una forma e l'altra e tracciare una linea. Con shift premuto possiamo mantenere la linea fissa sulla stessa riga ed ecco misurata la distanza tra questi due elementi in pochissimi secondi. Adesso vado a recuperare il file di un tracciato fustella con relativo packaging design per farvi vedere come aggiungere le quote e soprattutto come personalizzarle sfruttando le diverse opzioni a nostra disposizione. Questo qui è il file su cui andrò a lavorare e inizio subito ad aggiungere alcune informazioni. Vado a misurare, che ne so, questo lato qui sopra. Purtroppo ho notato che su fustelle come queste lo strumento non riesce a identificare in automatico l'area che vogliamo misurare, quindi occorre procedere manualmente con un paio di click. Supponiamo di voler misurare la distanza da qui a qui, faccio un click e poi mi sposto a destra tenendo premuto shift. Poi mi sposto verso l'alto e faccio un altro click ed ecco aggiunta la mia quota. Posso procedere allo stesso modo misurando altri lati di questo tracciato fustella e vedete quanto sia semplice aggiungere le misure rispetto a prima, dove eravamo obbligati a procedere manualmente disegnando le nostre frecce e i vari valori. Ora lo possiamo fare con pochissimi click. Certo, questi strumenti ancora non sono precisi, sono ancora in versione beta, quindi non funzionano ancora al certo per cento. Sicuramente con il passare del tempo e i vari aggiornamenti futuri verranno migliorati e ottimizzati. Detto questo vi faccio vedere adesso come personalizzare queste informazioni perché di default abbiamo visto che hanno una formatazione standard che magari non a tutti piace, per cui vedremo come customizzare lo stile. La strada numero uno per personalizzare l'aspetto di queste informazioni consiste in utilizzare l'icona delle opzioni che troviamo in questo widget. Quindi prima di disegnare le nostre misure io posso accedere qui e andare a personalizzare in anticipo tutte queste opzioni. Vedete che possiamo modificare l'unità di misura, quindi passare dall'unità di misura per esempio di default del documento che è in questo caso i millimetri ai centimetri. Possiamo poi modificare la scala nel caso in cui volessimo misurare un elemento con un rapporto diciamo dimensionale diverso rispetto a come poi verrà rappresentato nella realtà. Possiamo modificare i vari parametri delle linee, delle frecce, possiamo modificare le linee di estensione che sono queste qui che in realtà si possono anche togliere volendo e poi abbiamo la possibilità di formattare il testo cambiando il font, lo stile, la dimensione e la posizione. Quindi andiamo a modificare un po' questi parametri. Allora come unità di misura lascerei quella del documento che è millimetri, poi riduco lo spessore della linea e modifico il tipo di freccia. Cambio anche il colore da nero a magenta. Per quanto riguarda le linee di estensione le lascio ma le vado a tratteggiare. Reduco leggermente lo spessore e modifico anche il colore. Per quanto riguarda l'estensione inserisco zero perché non voglio che vadano oltre la freccia presente qui sopra. Il testo invece lo riduco solo a livello dimensionale. A questo punto personalizzati i parametri vado ad inserire nuovamente le mie quote e vedete che ora l'aspetto è completamente cambiato. Ora avrei in realtà potuto lasciare le quote precedenti con l'aspetto di default e poi personalizzarle senza disegnarle ex novo. Ho voluto però far vedere innanzitutto che è possibile anche modificare l'aspetto in anticipo prima di procedere con le misurazioni. Ovviamente la personalizzazione può essere fatta anche dopo aver raggiunto le quote e questo è super comodo perché ci permette di personalizzare il tutto in un colpo solo attraverso il pannello proprietà. Vedete che selezionando tutti gli elementi, tutte le quote che comunque si trovano in un livello unico che si chiama dimensions come ho detto prima, qui a destra ho le stesse opzioni viste poco fa le quali mi permettono di intervenire sugli stessi parametri con la differenza che posso vedere le variazioni in tempo reale. Quindi in realtà possiamo iniziare ad aggiungere le quote lasciando l'aspetto di default e poi intervenire successivamente sullo stile, cosa sicuramente più comoda a mio avviso. Sono sicuro che se lavori, se lavorate nel mondo della stampa, del packaging ma anche del logo design, questi strumenti vi torneranno particolarmente utili. Quindi vi invito a provarli e a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Aspetto ragazzi un vostro feedback, mi raccomando. Adesso prima di chiudere questo video voglio farvi vedere anche un altro strumento che non è nuovo ma che ho scoperto essere stato migliorato per ora soltanto nella versione beta di Illustrator. Quindi passo rapidamente a Illustrator beta e vi faccio vedere che lo strumento stella ora è stato reso dinamico, è stato aggiornato un pochino. Cosa vuol dire? Significa che possiamo disegnare una stella e poi modificarla direttamente nella tavola da disegno in maniera estremamente rapida e intuitiva. Vi faccio vedere subito cosa intendo. Vado a disegnare una stella e poi attivo lo strumento selezione. Vedete che selezionandola vengono mostrati dei nuovi comandi attorno alla forma che prima non erano presenti. Questa icona più e meno permette ad esempio di aumentare e ridurre il numero delle punte. Il tutto in maniera super intuitiva un po' come già possiamo fare con lo strumento poligono. Quindi adesso le punte possono essere variate in modo dinamico direttamente lavorando sulla forma e non siamo più obbligati come prima a dover ricreare l'oggetto ex novo. Non soltanto le punte possono essere modificate qui ma anche il raggio esterno e quello interno sicuramente una cosa super comoda. Quindi praticamente tutti i parametri della stella ora possono essere gestiti dinamicamente sulla forma anche dopo aver creato l'elemento. E questo ci permette di creare una stella personalizzata praticamente nella metà del tempo oltre a poterla modificare anche in qualsiasi momento. Vedete io posso intervenire sia sul raggio esterno aumentando e diminuendo la lunghezza delle punte oppure posso lavorare sul raggio interno andando ad allargare la stella dal centro. Poi ovviamente ho sempre a disposizione i miei angoli dinamici con i quali posso arrotondare i vari punti di ancoraggio. Per cui anche la stella come il poligono ora è uno strumento dinamico che velocizza sicuramente il flusso di lavoro a noi designer. Se volete scoprire tutte le novità di Illustrator 2024 vi rimando a quest'altro video in cui ve le elenco un po' tutte e 15. Prima di chiudere ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale mi raccomando per sostenere la sua crescita e per permettere a me di portare sempre nuovi contenuti. Lasciate un bel like se questo video vi è stato utile e noi ci vediamo nel prossimo tutorial.